Direi che possiamo entrare nel vivo della nostra giornata con la relazione del professor Coltorti sulle attività dello IUS. Grazie Andrea, grazie Ursula per l'introduzione. Grazie naturalmente a tutti voi per essere qui, dottorandi e dottorande, per festeggiare questo che effettivamente è il vostro momento. Mi sono permesso naturalmente di ringraziare oltre al comune di Ferrara perché voi sapete che l'impostazione dello IUS fin dall'anno scorso, fino all'inizio del mio mandato, è quello di essere un crocevia fra il mondo accademico, il mondo dell'impresa e naturalmente la cittadinanza e il pubblico. E quindi oltre a ringraziare il comune di Ferrara in questa giornata, mi sono permesso di riportare anche lo stemma della spalla, visto che ci sono molti tifosi fra noi e visto che dopo diverse decine di anni la spalla è andata. Io non sono un tifoso quindi non chiedetemi, però so che è un grande successo per la nostra città e quindi anche per la nostra università. Maggio è un periodo in cui ci sono molte iniziative, molte di queste ovviamente indirizzate proprio a voi, i dottorati, i dottorandi, e prendevo l'occasione anche proprio per ricordare, domani e dopo domani il mondo dei dottorati, dottorandi, ma qui anche studenti, laureandi, voi triennali, triennalisti o magistrali, incontrano il mondo dell'impresa e questo appunto è il crocevia che noi vogliamo pian piano costruire. E il 18 e il 19 ci sarà un altro importante incontro, questo sempre per dottorandi e dottorande, 18 e 19 maggio sulla progettazione delle azioni Mary Curie, Individual Fellowship, questo è un altro dei compiti che l'OIUS si pone, ovvero quello di dare degli strumenti, quelle che noi chiamiamo complementary skills, affinché il dottorando o dottorato, che sia naturalmente alla fine della sua carriera, abbia degli strumenti per poter proseguire la sua carriera nel mondo della ricerca. E naturalmente per fare questo è importante imparare anche a fare progettazione, progettazione europea, e le Mary Curie sono uno dei traguardi sicuramente molto importanti per un dottorato. Tutta una serie di ringraziamenti ovviamente che sono doverosi, il rettore per la fiducia già nell'incarico che mi ha affidato l'anno scorso, purtroppo il mio tentativo, la mia idea di condividere con la città questa giornata, si scontra tra virgolette in qualche modo con l'agibilità della saletta, che è prenotata con molto anticipo e quindi purtroppo il rettore non è potuto venire perché gli ho dato un giorno solo di disponibilità e lui era già impegnato. Il sindaco e l'assessore, naturalmente l'assessore si scusa, stava parcheggiando e dovrebbe arrivare a momenti per aver messo a disposizione appunto questa sala. Il SEA per tutto il lavoro di supporto che vedrete alla fine, i dottorati, i ragazzi lo sanno perché l'hanno già sperimentato, e penso che per loro questo era uno dei compiti, degli obiettivi che ci eravamo posti già l'anno scorso, di fare in modo che i ragazzi sperimentassero la presentazione del loro percorso direttamente qui, perché la giornata è la loro e quindi l'anno scorso non l'avevamo fatto in tempo, quest'anno ci siamo organizzati e questo grazie al SEA che ha seguito i ragazzi e penso che sia stato un percorso importante anche per loro vedersi nel video mentre si presentavano e lo vedremo poi alla fine. Livio, naturalmente, Zerbini che è il direttore del SEA, Ivana che naturalmente dietro le quinte ha reso sempre questo evento possibile, purtroppo la portavoce del sindaco Ivana Cambi ha avuto un incidente, è stata investita su una pista ciclabile, sono delle giornate così un po' sfortunate e non è potuta venire, l'ufficio stampa che ha coordinato l'evento, e naturalmente io sono qui, sono una specie di portavoce, sono forse l'alpinista che arriva in cima alla montagna, però dietro di me ci sono tutti quelli che lavorano, dietro, neanche tanto dietro le quinte, e naturalmente il mio ringraziamento speciale va a tutti i coordinatori, vedete i nomi elencati, non li sto a leggere tutti, altrimenti non finiamo più, e anche agli esperti di internazionalizzazione, e di comunicazione, di rapporti con le imprese, e naturalmente a tutto il personale dell'ufficio dottorato, molti dei quali sono in sala, a parte Daniela che anche lei stamattina ha avuto un incidente, una giornata... non vorrei che questo passasse, è un'antisfortuna, vai, ok. Questo è tutto il mio ringraziamento, non solo per il lavoro che loro fanno, ma anche per il clima con cui si lavora, e devo dire che all'interno di IUS, sia tra i coordinatori che con il personale, io personalmente mi trovo molto bene e lavoro molto bene, quindi questo per me è importante, perché non è importante solo lavorare, ma è bello, è importante lavorare in un clima adatto, sereno. Ok, quindi io riprenderò un po' quello che è il discorso fatto anche l'anno scorso di chi è lo IUS, molti di voi lo sanno già, e mi scuso magari per ripetere dei concetti, però spero che magari in sala ci siano persone che non fanno parte del mondo accademico, e quindi in qualche modo mi ripeterò su quello che noi facciamo, e su quello che è lo IUS. Lo IUS è un centro di formazione interdisciplinare, la sua caratteristica è proprio che cerca in qualche modo di far parlare discipline diverse nei 13, al momento 11 più 2, corsi di dottorato che vengono rappresentati nella nostra università. Appunto, erano 12 nel 31esimo ciclo, sono diventati 13 con l'ingresso di neuroscienze nel 32esimo, e siamo ancora 13, saremo ancora 13 nel 33esimo, che partirà questo novembre. Tenete conto che per ogni corso di dottorato, noi partiamo all'inizio dell'anno a lavorare, io sto cominciando a capire adesso, dopo un paio d'anni che ci sto dentro, qual è il lavoro, però noi per far partire questo 33esimo ciclo a novembre abbiamo cominciato a lavorare praticamente a novembre dell'anno scorso. Quindi c'è davvero un sacco di lavoro. Questi sono i numeri di borse che l'Ateneo ha messo e mette a disposizione per i corsi di dottorato, e come vedete da 36 del 30esimo siamo passati a 40, siamo passati a 42, quest'anno abbiamo fatto anche un balzo abbastanza consistente, siamo a 48. Quindi è segno che il nostro Ateneo investe giustamente sui giovani, che sono il nostro futuro, ed è un ottimo segnale. Quello che poi vedete sotto, 109, 93, 115, per il 33esimo vedremo, ma normalmente ci attestiamo sul superiore a 100, sono tutte le borse che i coordinatori riescono ad attrarre sulla base del volano delle borse che vengono offerte dal nostro Ateneo. E quindi vedete che praticamente raddoppiamo, più delle volte anche di più, quelle che sono le normali dotazioni. Quindi questo è proprio anche sintomo di impegno, di volontà e di piacere nel fare questo mestiere. E noi gestiamo circa ogni anno, noi, l'ufficio IUS, io di nuovo sono qui portavoce, gestisce qualcosa come 400 studenti, che pensate come matricole, uno dice, beh, vabbè, siamo 15.000 iscritti, 400 studenti, cosa volete che sia. Questi sono studenti, non sono studenti, sono dottorandi. Ogni dottorato, e voi che siete in prima fila lo sapete, ha un'esigenza particolare, lavora in un campo particolare, viene da un paese particolare, quindi ognuno è un individuo, come tutti per carità. Però in questo caso non lavoriamo sui grandi numeri, lavoriamo sulla singola persona, che è importante. Eccoli qua tutti i nostri 13 dottorati di ricerca. Diritto dell'Unione Europea, medicina molecolare, scienze biomediche, scienze chimiche, scienze dell'ingegneria, biologia evoluzionistica, neuroscienze, questi sono i dottorati di sede. Cioè vuol dire che non hanno convenzione con altri dipartimenti italiani o stranieri. Poi abbiamo quelli internazionali, che stiamo cercando di implementare, infatti adesso vedrete, che architettura, convenzione con Polis, Tirana, poi si sta sviluppando anche con San Paolo del Brasile, anche con Bratislava, la vocazione di architettura, una vocazione internazionale fin dall'inizio, Fisica, che ha, oltre che una convenzione con l'INFN, quest'anno abbiamo perfezionato una convenzione con Cracovia, Scienze della Terra e del Mare, di cui sono anche coordinatore, che ha una convenzione con l'Università di Cadice, Scienze Umane, Erasmus Mundus, che per sua natura è naturalmente internazionale, poi abbiamo due altri corsi di dottorato che sono in convenzione con altri atenei, secondo le nuove direttive è possibile aprire delle convenzioni con altri atenei italiani, e in questo caso sia Economia che Matematica, Economia è appoggiata a Parma, e Matematica è appoggiata a Reggio Emilia. Questo però non vuol dire, naturalmente nella convenzione il presupposto è che noi forniamo tre borse, le altre università forniscono tre borse, quindi non è che noi ci sgraviamo del peso di avere questi dottorati. E come vi dicevo, uno degli obiettivi del mio mandato è quello di aumentare il numero di convenzioni, di rapporti internazionali dei nostri dottorati, e a questo proposito in ottobre siamo già andati a Vroslav, Breslava in italiano, e alla fine siamo riusciti anche qui a mettere in piedi un percorso di dottorato internazionale che partirà con il 33esimo, quindi a novembre, quindi da 4 stiamo andando a 5. Allora, quelle attività che facciamo, e sono tante, come dicevo a una giornalista che forse era in sala prima, che forse è ancora, noi facciamo tante cose, Allora, facciamo le attività disciplinari, in qualche modo le sosteniamo, perché le attività disciplinari poi sono materia del singolo corso di dottorato, quindi dei coordinatori e del collegio dei docenti, però tutta la parte di gestione amministrativa del percorso di dottorato, dall'iscrizione fino al conseguimento del titolo, e sono più di tre anni, perché il titolo viene conseguito un 4-5 mesi dopo, se non viene poi addirittura ritardato di altri sei mesi, quindi sono tre anni e mezzo di lavoro di tipo amministrativo molto articolato, molto complesso, anche perché le regole ci vengono cambiate ogni anno, quindi capite bene che lavorare con qualcosa che si muove sotto e ogni anno cambia non è proprio facilissimo. Accanto alle attività disciplinari svolte nel corso di dottorato, IUS cerca di svolgere attività culturali e scientifiche, e devo dire che questa parte nel mio mandato, rispetto all'anno scorso, diciamo che non l'ho curata particolarmente, perché purtroppo sono stato impegnatissimo a seguire tutta una serie di regole dal punto di vista della promozione nei confronti del ministero, nei confronti dell'ANVUR, del collegio dei docenti, però insomma, questo è quello che è stato fatto, diverse scuole di dottorato, diversi workshop master, come giustamente diceva anche Ursula nell'introduzione. Quindi noi seguiamo, supportiamo anche queste attività, soprattutto per la gestione dei visiting che arrivano, per l'alloggio, per il viaggio e quant'altro. La cosa bella di IUS è che naturalmente lavora in sinergia, lavora in sinergia praticamente con tutti gli uffici dell'Ateneo di Ferrara, la SEA l'abbiamo già visto per quanto riguarda la comunicazione, poi l'ufficio ricerca, l'ufficio trasferimento tecnologico e naturalmente l'ufficio ricerca internazionale. Noi abbiamo proprio come compito istitutivo quello di svolgere queste attività formative che sono le complementary skills, per cui il dottorato esce non solo con una competenza tecnica giustamente nel proprio settore, ma esce con una serie di nozioni per, vabbè, indispensabilmente la lingua, indispensabilmente al meglio possibile l'informatica, imparare a comunicare, che non è una cosa semplice, acquisita e scontata per tutti, trasferimento tecnologico, tutte quelle che sono le regole del trasferimento tecnologico, la progettazione nazionale ed europea. Sul trasferimento tecnologico si apre naturalmente un mondo, un sipario completamente nuovo. Ai tempi discutevamo prima con Michele, in cui lui si è dottorato, che è il primo dottorato, nell'82 mi ricordava, e il dottorato era praticamente porta principale per entrare all'università. Adesso il 10% forse dei dottorati hanno, se hanno, molta costanza, fiducia, possibilità, avranno possibilità di entrare all'università. Gli altri devono confrontarsi, ma è anche giusto da questo punto di vista, con il mondo dell'impresa. E quindi devono sicuramente lavorare col trasferimento tecnologico, fare brevetti e quant'altro. Non è facile ragionare così su diversi livelli. Però, vabbè, noi ci proviamo e cerchiamo di dare questo input ai ragazzi. E questi sono i cicli di seminari, appunto, che nel 2016 sono stati organizzati tecniche di comunicazione, gestione della ricerca, trasferimento tecnologico, proprietà intellettuali, lingua inglese, forniamo certificazioni linguistiche, corso di italiano per stranieri. In particolare, voglio sottolineare questo sulle certificazioni linguistiche, perché dall'anno scorso abbiamo migliorato la performance. Prima, diciamo, circa il 60% dei ragazzi che si presentavano all'ultimo livello superava l'esame. Adesso siamo riusciti ad arrivare quasi al 90%, il che è un risparmio di risorse, non fosse altro che di gradimento dei risultati. Mediamente abbiamo una trentina, 40 dottorati, dottorandi, che seguono questi corsi, quindi sono abbastanza seguiti. Poi chiediamo un questionario di gradimento per capire da che parte sarebbe meglio indirizzare i nostri sforzi. e naturalmente lo IUS cosa fa anche? E questa è la parte più bella, più, diciamo, il core business, come direbbero, sviluppa e coordina tutti i rapporti di cotutela, convenzione, doppio titolo, titolo unico con le varie università straniere. Quando mi incontro con un collega straniero, dopo circa mezz'ora, abbiamo stabilito dei rapporti tali che ci potrebbero consentire di lavorare insieme, di fare un rapporto, un dottorato in cotutela. Se questo rapporto in cotutela lo vogliamo trasformare in un doppio titolo o un titolo congiunto, dietro ci va, a secondo della nazione con cui ci confrontiamo, un lavoro da un anno a diversi anni. E questa è tutta la parte amministrativa che naturalmente noi cerchiamo di sviluppare, che cerchiamo di migliorare e di evolvere. Questa è una parte che cercheremo di sviluppare quanto più possibile, perché in questa situazione lo scambio amministrativo fra i diversi atenei diciamo extra italiani è uno degli ostacoli all'internazionalizzazione. Collabora con il centro di cooperazione e lo sviluppo, perché naturalmente parte delle azioni che riguardano la cooperazione e lo sviluppo naturalmente riguardano la formazione ad alto livello e quindi i dottorati. e quindi noi diciamo entriamo insieme con il centro di cooperazione e lo sviluppo per vedere di istituire, tessere e sviluppare tutti quelli che sono dottorati in convenzione tramite la cooperazione e lo sviluppo. E poi naturalmente promuove i soggiorni all'estero e i dottorandi attraverso specifici bandi di mobilità. Tessi in cotutela e progetti congiunti proprio di questo stavo parlando giusto per dirvi due parole come vi dicevo la cotutela riguarda la singola persona e quindi è un processo relativamente semplice da sviluppare. Se vogliamo fare un progetto congiunto sia a titolo doppio che a titolo singolo si devono interfacciare tutti quelli che è il collegio di docenti che diventa unico si devono interfacciare tutte quelle che sono le pratiche amministrative anche semplicemente di passaggio di dati da un'università all'altra. Siccome sto gestendo Cadice sto gestendo diciamo insieme con l'ufficio IUS da un paio d'anni mi rendo conto di cosa questo voglia dire. Non è semplice rilasciare il titolo la sigla di entrambe le università di partner questo è il titolo congiunto che è il massimo livello di integrazione fra i dottorati internazionali e assolutamente non è facile alcuni lavorano su quattro anni alcuni noi lavoriamo su tre anni già questo è un piccolo piccolo è un primo ostacolo. Ok poi abbiamo i dottorati in cooperazione allo sviluppo che si basano appunto sempre tra collaborazioni fra Unife e Atenei partner e questo serve per agevolare l'accesso alla frequenza di percorsi dottorali al fine naturalmente di migliorare l'assetto sociale l'assetto economico del paese con cui si interagisce. Al momento noi abbiamo relazioni molto solide da molti anni con l'Equador e quest'anno ancora maggiormente saranno rafforzati. abbiamo da diversi anni e probabilmente quest'anno partiranno anche dei cooperanti diciamo dal Peru e quest'anno partiranno anche dei cooperanti dal Vietnam quindi stiamo cercando di allargare il più possibile i nostri partner internazionali da a est a ovest del mondo. Mobilità per quanto riguarda la collaborazione questa è una cosa su cui noi spingiamo molto e tutti i coordinatori spingono molto i propri studenti dottorandi per andare all'estero perché è un'esperienza fondamentale cioè chi riesce a fare un periodo all'estero sicuramente torna con un bagaglio culturale scientifico estremamente importante perché cambia l'ottica il modo con cui si sviluppa la ricerca in modo con cui si affrontano i problemi quindi noi ci teniamo molto e l'Ateneo su questa voce investe qualcosa come 100.000 euro e questo se volete è la media diciamo delle permanenze all'estero dei diversi corsi di dottorato per darvi dei numeri abbiamo nel 29 32esimo ciclo quindi nell'arco di 3 4 anni abbiamo mandato all'estero 16 1854 giorni 562 mesi con 127 studenti una media di 4,4 cioè i nostri studenti mediamente stanno dai 4 ai 5 mesi all'estero e questo è un obiettivo che ci poniamo di poter aumentare vogliamo aumentarlo vediamo se ci riusciamo ovviamente è un obiettivo che ha anche un costo e poi ha una ricaduta ovviamente positiva e questi sono alcuni dei nomi con alcune naturalmente bandiere per ricordare le numerose convenzioni a vario titolo con tutela doppio titolo cooperazione che noi abbiamo con i diversi paesi in più lo IUS sostiene i visiting Copernicus visiting scientist che vuol dire gestire il soggiorno per un periodo di almeno un mese per un eminente scienziato che dall'estero viene a stare qui da noi e svolge attività seminariali si confronta con i ragazzi e naturalmente permette un migliore scambio di conoscenze con i dottorandi in più gestisce anche la residenzialità degli studenti stranieri e italiani a Ferrara principalmente stranieri questi sono alcuni dei Copernicus visiting scientist che sono passati per Ferrara mi permetto di ricordare questo che è l'ultimo perché è stato a scienza della terra che è il professor Bisch lui ci ha fatto vedere lui era uno di quelli che ha spedito il rover su Marte quindi ci ha fatto vedere il filmato del roverino che atterrava su Marte quindi solo questo vabbè è la parte sicuramente scenica ma ha fatto una certa impressione presso i nostri studenti lo IUS gestisce anche la residenza naturalmente dà la possibilità di alloggio a tutti i dottorandi soprattutto stranieri che naturalmente arrivano a Ferrara possono essere anche un po' magari spaesati non sanno bene dove rivolgersi e lo IUS gestisce tre residenze per un totale 17 posti letto nel 2016 a fronte di una richiesta di 25 dottorati e quindi insomma c'è anche una certa turnazione una certa rotazione e quello che noi vorremmo poi utilizzare è questa prospettiva di alloggio per gli stranieri senza borsa e poter offrire appoggio un alloggio gratuito perché vuol dire naturalmente incentivare la mobilità non solo in uscita ma anche in entrata di questi ragazzi facciamo tutte queste cose ma la domanda naturalmente che voi vi potete porre ma le facciamo bene e allora naturalmente devo farvi vedere alcuni dei risultati ottenuti nel 2016 naturalmente non voglio fare notte e mi permetto di farvi vedere solo dei risultati economici che naturalmente non sono i risultati con la R maiuscola perché i nostri risultati siete voi però diciamo per sintesi nel momento in cui vado un attimo nel momento in cui io vedo questo grafico in cui l'FFO che è la quota naturalmente che il ministero restituisce al nostro Ateneo sul dottorato sulla voce dottorato nel 2014 nel 2015 è aumentata rispetto al 2014 nel 2016 è aumentata anche in maniera più cospicua rispetto al 2015 quindi ripeto non è questo l'unico modo per valutare se noi facciamo bene o facciamo male ci servono anche le opinioni dei ragazzi per poterlo valutare però questo almeno ci gratifica e questi scusate questi denari arrivano su cinque ma principalmente questi quattro indicatori che il ministero ci dà e che ancora non ha cambiato ma cambierà ancora uno è il famoso R più X che è il criterio uno ovvero la qualità della ricerca svolta dal collegio dei docenti il criterio due che è il grado di internazionalizzazione che è proprio la quantità il numero di dottorandi che si iscrivono al nostro di studenti scusate che si iscrivono al nostro dottorato con titolo straniero il tre è il grado di collaborazione con il sistema dell'impresa quindi vedete come poi il dottorato proprio si pone a crocevia e il quattro è l'attrattività del dottorato intesa come studenti che si iscrivono al nostro dottorato da università italiane non ferraresi su questo noi abbiamo avuto appunto questi risultati che ho appena fatto vedere quindi vuol dire che agiamo bene se le persone vengono da noi in qualche modo vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro ecco questa è la scommessa per il futuro perché l'Ateneo ha scommesso e di questo sono grato naturalmente al rettore anche se non mi farà dormire per i prossimi mesi ha scommesso per il futuro proprio sull'indicatore qualità media dei collegi di dottorato di 1-1 sono le sigle per gli addetti ai lavori e sull'indicatore di 3-4 che vuol dire aumentare la proporzione di studenti immatricolati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero questa è una continua corsa ad ostacoli senza conoscere gli ostacoli senza conoscere la lunghezza della corsa quindi immaginatevi noi come riusciamo a lavorare su questi due indicatori non per porre attenzione sempre sull'aspetto economico ma ci giochiamo diversi milioni di euro questo è per far vedere gli studenti stranieri immatricolati a Ferrara nell'arco del 29esimo 30 31 32 in proporzione perché naturalmente il parametro è in proporzione nel 31esimo eravamo al 19% nel 32esimo qui manca una gambetta eravamo a 23% che è questo prossimo anno se cioè prossimo anno quest'anno il 33esimo se siamo bravi se riusciamo a mantenere gli obiettivi vorremmo raggiungere il 40% quindi vuol dire una grande vocazione internazionale per la nostra per i nostri corsi di dottorato e per il nostro Ateneo e allora quali sono le prospettive per il 2017 18 naturalmente la prima è ottenere una buona performance su due indicatori scelti dall'Ateneo uno quello sui laureati con titolo straniero è una cosa che riusciamo in qualche modo a controllare noi e mi aspetto una buona performance se tutte le cose vanno come abbiamo programmato 40% è sicuramente dal 23 un salto notevole sulla VQR abbiamo dei grossi problemi perché il ministero e l'Anvur ci cambiano le carte in tavola mentre giochiamo e non sono altrettanto sicuro di riuscire ad ottenere un buon risultato vorrei migliorare la sinergia con i dipartimenti e con gli altri uffici in Ateneo perché lo IUS appunto fa molte di queste attività ma si deve interfacciare meglio con i dipartimenti perché spesso poi volentieri anche i dottorandi che sono dentro i dipartimenti non sanno bene cosa fa lo IUS se non quando magari c'è il bando per la mobilità e non tutti lo sanno aumentare il numero di convenzioni e gli scambi con università straniere questo l'abbiamo già visto da tre e mezzo perché una non era ben definita siamo passati a cinque quest'anno e speriamo di poter migliorare questo è un mio cruccio perché dall'anno scorso da statuto l'avevo inserito io a statuto di fare entrare i dottorandi nel consiglio IUS beh non ci crederete ma dall'anno scorso ancora non ci sono riuscito quindi per una serie di ostacoli burocratici ma speriamo di riuscire a superare questa cosa i dottorandi al momento sono sempre invitati nei consigli IUS però non sono diciamo a pieno titolo non possono votare quindi non sono rappresentati a pieno titolo migliorare la gestione informatizzata delle pratiche amministrative questo è un grosso obiettivo che ci poniamo perché sta diventando molto difficile gestire tutte le pratiche amministrative e se non c'è una gestione informatizzata davvero facciamo fatica a star dietro a tutti che vuol dire un impiego di maggiori risorse umane quindi se riusciamo un po' a sgravare un po' le risorse umane le dedichiamo di più a fare convenzioni e imparare a fare convenzioni quindi l'obiettivo sarebbe poi questo e aumentare anche le sinergie tra i dottorandi noi siamo squisitamente interdisciplinari come ho detto dall'inizio e quello che vorrei fare è che l'Ujus diventi un punto di scambio proprio fra i dottorati o dottorandi in questo caso e c'è un progetto che è stato presentato dal nostro Ateneo che è di Contamination Lab che vuole proprio andare in questa direzione ma al di là del fatto che si possa avere successo o meno su questo progetto quello che mi piacerebbe è che i dottorandi si scambiassero le proprie esperienze fra di loro soprattutto se si vuole fare progettazione adesso non esiste una progettazione che si basi esclusivamente su una disciplina quindi questa è una cosa che i dottorandi e i dottorati devono imparare a interagire fra di loro ma non solo nel loro campo anche in campi affini o anche in campi lontani ok siamo alla fine questo è il periodo questo 15 maggio l'avevamo fissato in gennaio e naturalmente al di là delle disgrazie che sono successe che raccontavo all'inizio non poteva cadere in un periodo peggiore perché l'accreditamento della banca dati dottorato che l'anno scorso era chiusa a fine aprile ha aperto l'8 maggio ha aperto l'8 maggio il 9 era in riparazione e questo vuol dire che siamo il 15 maggio quindi noi siamo in piena apertura banca dati che è il processo di accreditamento del dottorato più importante per l'OIUS e per tutto il nostro Ateneo quindi siamo con tutti i capelli dritti in testa e il futuro questa notizia che molti di voi sanno già l'OIUS cambierà casa da via delle scienze dove siamo adesso ci trasferiremo Palazzo Turchi di Bagno dove saremo più vicini al polo museale tra l'altro e dove insomma avremo sicuramente spazio anche per fare contaminazione nell'ottica che dicevo prima tra i dottorandi questo è alcuno dei premi riconoscimenti dei nostri dottorati 28esimo 29esimo c'è anche un 31esimo ciclo e sono solo alcuni perché abbiamo chiesto ma naturalmente non ce ne sono arrivati tutti quindi vuol dire che i nostri dottorati come giustamente diceva Ursula si pongono bene nel mercato al di fuori di Ferrara non sono solo nostri ma riescono a giocare anche fuori e quindi grazie questo è tutto il personale amministrativo che non voleva farsi la foto ma che li ho costretti a fare la foto perché insomma grazie a loro se tutto questo lavoro viene svolto al di là naturalmente dei coordinatori e quindi grazie a voi tutti per l'attenzione grazie a voi grazie a voi grazie a voi